Invade corsi d'acqua e le sue radici sono capaci di distruggere il cemento e soffocare le altre specie. È il poligono del Giappone, pianta infestante nata tra Cina, Corea e Giappone appunto e che fu introdotta in Europa nel Medioevo come pianta foraggera. Oggi è un problema invece sempre più presente nei corsi d'acqua. È il Valdarno, la zona più colpita della provincia di Arezzo e non solo. Questa è la mappa dei corsi d'acqua nei quali è presente questa specie che non accenna ad indietreggiare. Sono il torrente del Tasso, il borro di Riofi, il torrente Ciuffenna, il borro di Sant'Antonio, di Montemarciano e della Cimiterà, i più interessati, ma non mancano nemmeno il torrente Faella, il borro dei Cerberesi e il torrente Resco. Il consorzio di Bonifica mette in guardia da un problema che è dilagante e con il quale il consorzio stesso lotta con tagli e abbruciamenti nel periodo di riposo vegetativo. Innanzitutto quello che è importante fare è riconoscerla. Iniziere a riconoscerla perché ormai abbiamo visto che è molto diffusa purtroppo in Valdarno. Si parla di circa 70 chilometri di corsi d'acqua ormai colonizzati, quindi capite che la situazione inizia ad essere preoccupante, ma non colonizza solo i corsi d'acqua, la ritroviamo anche lungo le fossette delle strade e anche in orti e giardini privati. Quindi è importante che anche i cittadini ne prendano coscienza. Per poterla gestire noi abbiamo adottato la tecnica di tagliarla, trinciarla nel periodo di riposo vegetativo, quindi quando ha perso le foglie, lo stelo è secco, proprio perché ha minore capacità di riprodursi in quel periodo lì e poi usiamo la tecnica dell'abbruciamento. Una pianta che però è difficile da estirpare. Basta una piccola radice in terra per farla rinascere. È per questo che i cittadini devono saperla riconoscere. Un opuscolo informativo del Consorzio di Bonifica dà informazioni su come riconoscerla ed eliminarla. Ma sia su internet che con app specifiche per smartphone si può individuare. Contattando il Consorzio di Bonifica si può dare il proprio contributo in una battaglia che, se persa, potrebbe avere serie ripercussioni per l'agricoltura e la sicurezza della popolazione.